Si è fatto tardi, perciò... Beh, faremo una formazione ronfante qui. D'accordo. Ottima scelta, papà. Guarda, Filo. Dormono ammucchiati. Uh, figo! A dire il vero, ognuno avrà una camera tutta per sé. Oh! Avremo camere separate! Cos'è camere? Cos'è separate? Noi superior riteniamo che l'intimità favorisca la personalità. Motto ufficioso. Bene. Noi, Cruz, riteniamo che il branco fa branco a qualunque cosa. Parlami della mia camera, signor superpapà.